Tu ho ragioni per giorni, io invece per secoli, e i secoli non sono tutti uguali. Spero di non crollare prima o poi su me stesso. Caro amico, mi è impossibile venire da te. Ti scrivo però perché ci terrei comunque a metterti a conoscenza di alcuni fatti che riguardano il quadro Ambulanza. Sì, è un uomo coraggioso, non c'è da stupirsi. Non è suo, di mio marito. Non è figlio di mio marito, l'ho tenuto segreto per tutta la vita, ma ora l'ho detto a lei. Davvero salveresti me? Non credo. La presa ieri a me mi ha sparato qua, in petto, un colpo solo. Era una di quelle mattinate di settembre, una di quelle mattinate di settembre che tu ci vedi davvero che possa andare tutto bene. E mi sono toccato qui, la divisa era tutta sporco di sangue, le mani russe. Io invece ho visto tutto nero, e dopo nero qua. Mi ricordo mamma che diceva, non basta venire al mondo, a cogliere sono buoni tutti. Più sono coglioni, più sono buoni a venire al mondo, se direbbe. Ma noi, noi siamo le bastarde, le invincibili, le più stronze. Capito. Capito. Grazie a tutti Giovanotti Andiamo? Dai forza muoversi Doce porti Le ributtiamo dentro In vita